Che sta dentro questa boccetta? Olio e acqua, semplicemente quello è un olio novello, è bello verde. Ma se io faccio questo, sbatto, guarda che bello, guarda che bello, è carino, è bello. Si separano da capo. Perché? Perché si separano? Per la densità. No. Per la polarità. Bravo. La molecola dell'acqua, H2O, presenta ai suoi poli opposti, se vogliamo, una leggera carica. Gli idrogeni sono leggermente positivi, l'ossigeno è leggermente negativo. L'acqua non riesce a legare con l'olio perché l'olio non presenta polarità. Cioè la molecola dell'olio non presenta ai suoi estremi della carica. Non presentando della carica, le molecole dell'acqua. Ma sai che egli ne frega di legarsi con l'olio? Mi ne frega niente, non si legano.